Ubisoft, Ubisoft, Ubisoft! Che cosa è successo? Ve lo spieghiamo in breve. Praticamente non ci sono più soldi. Gli investitori di Ubisoft hanno ricevuto una notizia. Sostanzialmente la chiusura fiscale di Ubisoft è leggermente inferiore a quella preventivata. Parliamo di una prima stima di 2,46 miliardi, non bruscolini, e Ubisoft dice arriviamo a 1,95. Che significa 1,95? A quanto pare si va a break even con l'azienda, perché è tanto che spende Ubisoft per foraggiare tutto il suo sistema. Quindi break even vuol dire che Ubisoft non è in perdita, arriva a pari. Ma arriva a pari. E voi direte, vabbè, oh, buono. Insomma, perché se stiamo parlando di un'azienda che aveva dei piani a lungo termine e che ha cominciato a modificare il suo modo di fare, sperando in un'impennata colossale dei profitti, questo break even significa sostanzialmente che tutto il piano che hanno portato avanti negli ultimi 5-6 anni non sta andando benissimo. E questa è una cosa controproducente anche per gli investitori. Ve lo spiego in breve. Gli investitori così non guadagnano niente. Perché se si va a pari non ci sono utili. Se non ci sono utili non si possono dividere con gli investitori. E quindi il tuo investimento sta in stallo. E quando manca la ripartizione degli utili è necessaria un'azione. Un'azione di comunicazione verso gli investitori. Nel senso che bisogna far capire agli investitori che ci sarà un cambio di paradigma, sennò nessuno ci rimane in quella barca lì, perché adesso sta a galla. Non sta navigando, è ferma, ok? Però se le cose peggiorano comincia ad andare giù. C'è bisogno di un cambio di paradigma e bisogna comunicarlo bene. Ubisoft ha lanciato già un segnale di ripresa, cioè di ripresa. Ha lanciato un segnale di cambiamento nel paradigma aziendale. E il primo segnale è che non esce più Assassin's Creed Shadow. Esce a febbraio. Rimandato a febbraio, come tutti i buoni alunni, perché vengono rimandati in realtà a settembre, lui viene rimandato direttamente a febbraio, perché? A quanto male il gioco è completo, ma lo vogliono più dettagliato. Vogliono curare più i dettagli, vogliono evitare i bug. E io sono sempre contento quando succede questa cosa qui, eh. Calma, calma perché? Perché riconosciamo tutti quanti i giochi Ubisoft All Day One. Avanti. Venite qui a dirmi che sono perfetti i giochi Ubisoft All Day One. Non lo sono, alcuni anche in maniera catastrofica non lo sono. Quindi prendersi sei mesi in più di tempo per me va benissimo. Prendetevi tutta la calma che vi serve, fate polish del codice e venitemi qui con un gioco con due coglioni grossi così, sbatti sul tavolo e dici chi è? Prenditi questo. Anche perché per il momento si parla semplicemente di un gioco feature complete, che vuol dire che tutte le caratteristiche del gioco ci sono e funzionano. Ma c'è una bella differenza tra un gioco che ha dieci feature che funzionano tutte e dieci è un gioco in cui tutte e dieci sono fighe da giocare. È il problema degli ultimi giochi di Ubisoft. E in effetti in questo paradigma rinnovato ci è finito anche Star Wars Outlaws. Perché Star Wars Outlaws è uscito. Non è un gioco indecente, abbiamo fatto anche un video per dirlo. Star Wars Outlaws non è un gioco indecente, ma è un gioco in cui si vede in maniera molto chiara che la vastità di questo open world è solo uno specchietto per le allodore. Gli open world non devono essere così. Gli open world hanno molto più in comune con un sandbox di quanto non abbiano altri giochi. Un sandbox deve essere reattivo. Ubisoft ha deciso di mettere mano anche a Star Wars Outlaws per sistemare le meccaniche che non funzionano. E io spero profondamente che si tratti del open world. Perché tutto il resto è accettabile, l'open world no. Anche perché in questo miliardo e 95 di guadagni che sono effettivamente arrivati a black even, e vuol dire già tanto, vuol dire già tanto perché se avessero detto siamo in perdita, amma mia, sarebbe stata una catastrofe. Una catastrofe allucinante perché significa che molti avrebbero smesso di credere in Ubisoft. Invece loro hanno dichiarato il break even, cosa giusta. Però hanno detto non ha venduto Outlaw come dicevamo noi. Non ha venduto. Strano che non abbia venduto. A fini che non è un gioco che pompa, è il gioco fatto e finito, il compitino fatto e finito per darlo ai vari amanti della saga. Ma se pensate che il rinvio del loro più grosso vaccone da mungere, cioè Assassin's Creed, e la decisione di rimettere mano ad un titolo che tutto sommato funzionava pure, possano essere le cose più importanti, vi sbagliate. Perché adesso arrivano due bombe. Che stai facendo? Sto pensando a una serie tv che mi ha fatto schifo, YouTube Money. E dove la trovo? Su Amazon? Su Netflix? No, l'hanno fatta sti due pirla, quei due sul server. È una serie che parla di YouTube, argomento di cui a me non fotte un cazzo. Eh ma sto a vedere, sono due bei ragazzi, soprattutto quello con i capelli, mamma mia. Sì vabbè, a parte questo voglio dire, però questi bastardi, le prime tre stagioni li hanno messe così online, chiunque le può vedere. Ma sai che hanno fatto una bastardata? Cosa hanno fatto questi ripugnanti figli di puttana? Ma niente, praticamente la quarta stagione non sta su YouTube, l'hanno messa su Patreon, su loro Patreon, non sul mio. Ha detto quello bello, che esce il 27 ottobre alle ore 12, sul loro Kingdom QDSS, ma come lo chiamano? Kingdom mi sa che vuol dire zucchina. Comunque sia, io ce li spenderei due soldi per vedere sta merda, eh. Scusa, non ho capito, lo fanno pagare. Sì perché loro ragionano così, cioè c'è la gente che fa il Kickstarter, no? E che investe nel progetto e poi gli altri non lo possono avere immediatamente gratis, che pezzi di merda. Senti allora faccio una cosa, io muo aspetto il 27 ottobre alle ore 12 in punto, vado lì e gli commento in modo negativo. Prima lo compro e poi commento. Bravo, io mi iscrivo pure a Patreon, così gli faccio un dispetto, gli sputo sulla piattaforma. Arrivano due bombe che noi, posso, posso per favore, posso? Sì. Me lo concedi? Certo. Me lo posso, perché se no dopo passiamo come stronzi, come al solito. Ogni dieci anni succede la stessa cosa. Anche meno, anche meno sto giro. Sì è vero perché, sì sì, diciamo ogni cinque. Noi abbiamo fatto delle letterine a Ubisoft, le abbiamo fatto, potete andare a rivedere, esisto, non abbiamo mai cancellato niente su questo canale, andate a vedere, cara Ubisoft, ti iscrivo. C'è una roba con Uconnect, Ubisoft Connect. Ubisoft Connect, Uplay come cazzo. Da quando è uscita quella cazzo di piattaforma, io la odio con tutto me stesso. Ho sempre detto, ok vi serve la piattaforma vostra perché c'avete un sacco di giochi, ma non precludetevi altri mercati. Invece loro, no la piattaforma nostra è figa, no faceva cacare. La piattaforma di Ubisoft è una delle peggiori in commercio. Tant'è che poi l'hanno rifatta, l'hanno chiamata Connect, Ubisoft Connect. Fa schifo uguale. Però non è che cazzo, è sempre quella roba lì. E quindi qual è il cambio epocale? Il cambio epocale è che adesso, sentite perché è una cosa incredibile, i giochi al day one escono pure su Steam. Ci voleva tanto. Vuoi guadagnare due spicci in più? Lo sai quanto fai? Non vuolevi dare la percentuale a Steam. Perché quello è. Quello è. Non volevi dare la percentuale a Steam. Va benissimo, te la vuoi tenere in tasca tu. Ma non ti puoi tagliare una fetta così grande. È come se un qualsiasi store oggi che vende stronzate, ok? Non si mette pure su Amazon. Devi dare la percentuale a Amazon, ma ti apre a un mercato molto più grande. Un mercato che vende già, e vende videogiochi, non è che vende cianfrusaglie. E poi, e poi ragazzi, ci siamo tolti dal cazzo Ubisoft Connect. È una cosa che mi fa felicissimo. Cioè non è che tra sei tolti, ci sta, ci starà. Per giocare ai giochi dovrai comunque connettere l'account, mi ci gioco quello che volete perché figurati se no le monetine di merda. Ma anche lato monetine, anche lato microtransazioni, forse... Ubisoft, la lettera, la lettera. Quella che ti scrivissimo. Che ti scrivemmo. Ti scrivissimo, è più bello. E ti scrittermio. Quella lettera lì chiedeva un approccio meno predatorio verso noi videogiocatori. Perché noi videogiocatori i soldi te li abbiamo sempre dati con la motopompa comprando in massa dei titoli pressoché perfetti, come Far Cry 3 per dire. E... mi fa molto piacere che adesso tu abbandonerai il modello Season Pass. questa cosa è incredibile. Ubisoft che abbandona il modello Season Pass e come Rocco si freddi che abbandona la faggiana ma è forse la decisione più pesante tra queste. E va bene così. Va bene così. Perché finalmente si sono resi conto che fanno videogiochi. Cioè, una volta lo sapevano. Sì, benissimo. Una volta lo sapevano. Poi le aziende si sa come vanno sono complesse da gestire più dipendenti hai peggio è è un casino e quindi più diventa grande più si ha bisogno di foraggiare e come foraggi inserendo magari delle micro transazioni che vedi venditi qua venditi là venditi qua però non è il gioco del lungo andare è il gioco corto e quanto è durato sto gioco? Sette anni? Era la gallina oggi cioè il Season Pass fondare i giochi sul lungo supporto supporto a tempo indeterminato è un qualcosa che non può funzionare in questo mondo e nel mondo della serialità di Ubisoft pure Activision credo che abbia capito che tutte le volte che investe su un code facendo uscire un altro code sta cannibalizzando il vecchio code ed è un sistema che si morde la coda Ma loro l'hanno capito per primo io ti ricordo che Assassin's Creed usciva ogni 6 7 mesi e veniva venduto insieme ai Corn Flakes Sì veramente ragazzi lo regalavano nelle patatine Assassin's Creed gli Assassin's Creed svalutavano a una velocità allucinante chiedete a Nintendo quanto vale Zelda Breath of the Wild che è uscito un botto di tempo fa chiedete a Nintendo Ora non stiamo a fare paragoni Nintendo e Nintendo Ubisoft e Ubisoft sono due cose completamente differenti Ma nessuno impedisce a Ubisoft di imparare da Nintendo certo e nessuno impedisce a Ubisoft di tornare a essere Ubisoft perché c'è stato un periodo in cui Ubisoft noi la veneravamo perché si prendeva la libertà poetica di fare delle cazzate che gli altri non si sono mai permessi di fare poi la politica del risparmio la politica del riutilizzo e quante volte l'abbiamo detto su quel cazzo di Far Cry mamma mia dal 3 al 4 si vede un piccolo passo avanti dal 4 in poi è la solita Solfa cambia la storia è un cambio di setting ma non basta a un videogiocatore ci vuoi mettere la canna da pesca ci vuoi mettere l'esc la pesca che cazzo ci fai? ma che cazzo cambia? cioè allora raga la verità è che noi videogiocatori siamo fatti così se un gioco ci piace come a me è piaciuto Far Cry 3 lo rigiochi 3 volte ti rifai tutti gli avamposti 400 volte io arrivo a Far Cry 4 che sono ancora pieno di Far Cry 3 e arrivo a Far Cry 5 che sono ancora discretamente sazio di Far Cry 4 perché se il gioco mi è piaciuto ci ho giocato tanto ok? per farmi venire la voglia di un capitolo nuovo fra 6 mesi tu mi devi fare un gioco veramente di merda che non mi ha saziato la politica del riutilizzo ha portato anche a un decadimento di quello che poteva essere Avatar Francis of Pandora perché graficamente non c'è nulla da dire è spettacolare un ottimo gioco un ottimo impianto e non si poteva fare altrimenti cioè Pandora è un mondo vivo colorato il colpo d'occhio ce l'ha ma se non ci metti pure un cazzo di gameplay Francis of Pandora è un disastro per quanto mi riguarda è uno dei giochi peggio pensati di questa generazione e ti prende per il culo perché all'inizio non è male ripeto all'inizio tu lo vuoi giocare dopo pochissime ore di gioco capisci che uno è un loop due è un loop fatto male tre non si capisce manco la mappa perché è gestita di merda e soprattutto ti rendi conto che un mondo così aperto è un tunnel perché se non hai il livello giusto se non ti hai fatto tutte le secondarie magari nell'ordine che intendevano loro tu non fai l'avamposto di missione non sono le aree secondarie a essere bloccate a essere troppo difficili è un gioco basato sul tuo livello ma così profondamente che ci vogliono 40 colpi per uccidere un nemico per te e tu muori con due colpi questo è questo è il problema di Ubisoft sta facendo dei giochi seguendo dei modelli lo ha fatto con gli Assassin's Creed GDR oriented e lo ha fatto male perché se avesse fatto un vero GDR con Assassin's Creed sarebbe stato più interessante ha fatto un ibrido del cazzo cercando di tenere dentro i vecchi fan e i nuovi fan e ha perso e adesso si ritrova a fare Assassin's Creed ibrido un po' action un po' no e Mirage che è praticamente Assassin's Creed di 12 anni fa e questo è un tornare sui suoi passi io apprezzo chi riesce a tornare sui suoi passi quando capisce che è sbagliato oggi però dobbiamo fare i conti con i tempi i tempi sono più veloci di quando abbiamo iniziato a fare YouTube nel 2014 non eravamo così sprint è tutto più accelerato anche il mondo dei videogiochi oggi esce un gioco domani non ne parla più nessuno noi come YouTuber siamo vittima di questa roba qui porca troia cioè noi se parliamo oggi di un gioco appena uscito di un Wukong e facciamo passare due settimane quel gioco se ne sono dimenticati tutti quanti e non gli interessa sapere il tuo parere no ma non gli interessa neanche più il gioco perché ormai hanno visto 18 live in cui l'ha finito chiunque sentono gli utenti sentono di averlo finito pure loro anche se non l'hanno mai toccato e in un mondo così in cui i giochi sono così grandi e così costosi e ci vogliono 8 anni 7 anni 5 anni per fare un gioco non ti puoi permettere di cavalcare il momento l'onda immaginate un'azienda che dice oh cazzo quest'anno i Battle Royale sono andati potente facciamo un Battle Royale lo finisci 4 anni dopo perché hai fatto un gioco 4 anni dopo e Battle Royale li odiano tutti il punto è che Ubisoft se la sta rischiando oggi come non mai vedete quante volte ve l'abbiamo detto Ubisoft a sto giro sta giocando alla roulette russa ha capito che non può fare più quello che sta facendo ha capito che per guadagnare si deve prima riguadagnare la fiducia dei videogiocatori e ha capito che questa potrebbe essere l'ultima chance per Ubisoft di non crollare perché un gigante come Ubisoft fa presto a crollare fa presto a tagliare le gambe a migliaia di sviluppatori e fa presto a distruggere a far scendere il castello di carte perché se si perdono dei miliardi non stiamo a parlare più di milioncini sono miliardi sapete quanto ci mette a risollevarsi quanto ci mette a riguadagnare pure la fiducia degli investitori è un macello infatti mi sa che prima ho detto milioni ho avuto un lapsus ma sono miliardi questi ragazzi non sono milioni sono miliardi il fatto è che ultimamente ci abbiamo avuto secondo me un paio di cose che hanno guidato anche i meno intuitivi del mondo gaming verso la strada giusta cioè in pochissimo tempo abbiamo assistito a tanti crolli disastrosi di realtà che avevano in comune una roba sola la scarsa cura Gollum era un gioco su una licenza prestigiosissima purtroppo era fatto di merda che ha fatto il gioco è bastato il marketing è bastata la licenza no Concord Sony ha investito uno sfondo di soldi per Concord gli hanno fatto una pubblicità ottima gli hanno riservato un trattamento d'onore durante le loro presentazioni che ha fatto Concord non è durato neanche due settimane e ha fatto perdere un botto di soldi veramente un botto di soldi di contro dal nulla ti viene fuori Shift Up ti fa un gioco coreano con statizia che picchia i mostri il gioco è fatto bene il gioco è fatto bene la gente l'ha adorato ha venduto tantissimo cosa esce subito dopo? Wukong Wukong è un gioco che viene fuori dal nulla dal nulla più assoluto aveva incuriosito tutti che cos'è Wukong? un gioco con le microtransazioni una puttanata no un gioco che inizia finisce te lo giochi stop cosa esce adesso? Astrobot che Sony ha pubblicizzato come il culo perché sembrava che non dovesse manco uscire sto Astrobot rispetto a Concord non ha avuto copertura che cos'è Astrobot? un gioco con un team di 60 persone che sono diventate 70 adesso 80 adesso 60 persone che è costato poco e Sony siccome è costato poco e c'è un team piccolo non ci ha investito per la mentalità che bisogna sempre fare le cose con i miliardi che bisogna investirci in marketing non è il marketing che fa vendere i giochi non è mai stato così no quindi finalmente c'è un ritorno ma c'è un ritorno da parte di tutti quanti siamo c'è si sente nell'aria sono curioso di vedere che cosa succederà a fine anno perché a fine anno secondo me dall'anno prossimo si vedrà concretamente un cambio di direzione da parte dei più grossi player in questo ambito e sono curioso di vivere questo cambiamento e vedere un attimino come andrà prima di tutto quali saranno i giochi presentati nel prossimo futuro perché se è come l'ultimo state of play di Playstation va bene lasciamo sta nel prossimo futuro nel prossimo futuro perché sono sicuro che ci saranno molti più single player molti molte meno microtransazioni si e soprattutto meno live service perché non so se ti ricordi Rocksteady cioè il team che sviluppò dei capolavori della serie Batman Arkham loro hanno avuto penso la lezione suprema loro volevano fare un gioco sulla Suicide Squad e l'hanno fatto il problema è che dall'alto gli hanno detto ok va bene però adesso è un live service chiedete chiedete quanto è andato bene Killed Suicide Squad chiedete ha fatto il flop più doloroso del filone DC da che se ne ha memoria perché perché hanno provato ad infilare un modus operandi o comunque sia un genere che non è videoludico è un genere aziendale hanno provato a mettere un genere aziendale all'interno di una serie di videogiochi che erano semplicemente divertenti e fatti bene e neanche Rocksteady che ci sa fare è riuscito a far uscire un gioco decente neanche loro ci sono riusciti quindi piantatela di voler infilare modelli remunerativi anche dove non servono i modelli remunerativi dove che funzionano dove servono questo video era per raccontarvi la situazione per dirvi che da una parte siamo contenti dall'altra come al solito siamo un po' preoccupati perché Ubisoft è un player grosso gigante che ha fatto ottimi titoli e sono sicuro che possa dare tanto in futuro soprattutto dar da mangiare a un sacco di sviluppatori di impiegati di tutte le persone che ci girano intorno quindi spero che questo cambio di direzione nei prossimi anni sia fruttuoso per loro però qui mi sbilancio secondo me sarà sicuramente fruttuoso per loro dovranno metterci dentro anche qualche gioco piccolo che tenta il di più che vuole fare di più che vuole uscire da un panorama un po' indie ma indie soltanto nei costi perché se lo sviluppai Ubisoft non è più indie si è un indie è un indie e i cosiddetti indie accompagnati indie presi per mano come fu No Man's Sky e come tanti altri titoli che a pensare a Orient Blind Forest Microsoft prese per mano uno studio se disse vabbè fate sta figata vediamo come va questa roba a cui serve ma per noi videogiocatori in realtà non c'è pericolo il pericolo come ha detto Nicola sono gli studi che vengono acquisiti da questi giganti e che poi vengono lasciati a casa quando le cose non funzionano più noi videogiocatori continueremo ad avere giochi ottimi giochi perché tanto dalla Corea la roba bella arriva dalla Cina la roba bella arriva e per assurdo vengono localizzati più i giochi cinesi e coreani di quelli di Ubisoft e compagnia cantante quindi noi dobbiamo stare tranquilli come videogiocatori come esseri umani un po' meno